Quanto è importante abitare in una zona vicino alle strade principali senza avvertire il rumore? E soprattutto quante opportunità in vendita ci sono con questo incredibile vantaggio? Seguitemi. A pochi metri da Via Gentile, dall'uscita della tangenziale di Bari, abbiamo questa opportunità immersa nella tranquillità di Via Quinta Valle nel quartiere di Apigia. La zona è oggetto di un'importante riqualificazione immobiliare che ne migliora la vivibilità e la bellezza. Nel Fioralocchiello, il Palazzo della Regione Puglia. Nelle vicinanze abbiamo anche un ipermercato e una galleria di negozi. Il condominio con Portirato si mostra in ottimo stato di manutenzione e il doppio ascensore riduce i tempi di attesa. In casa siamo accolti dal salone con una finestra doppianta che assicura luminosità e l'accesso sul balcone terrazzato, dal quale è possibile ammirare l'orizzonte che separa il cielo dal mare. La vista dal settimo piano è a perdita d'occhio. La cucina dalle comode dimensioni risulta abitabile e affaccia su un balcone verandato che risulta uno spazio jolly della casa. La zona notte è composta dalla cameretta ottima per due ragazzi e dalla camera matrimoniale che può ospitare un armadio quattro stagioni. Il posto auto di proprietà è situato all'interno del recinto condominiale videosorvegliato, risultando anch'esso un ulteriore comfort. Abbiamo tutti gli elementi per poter diventare proprietario di questa casa per la prima volta sul mercato. In più, per coloro che avessero un'urgenza abitativa, tutti i mobili all'interno della casa possono essere acquistati ad un prezzo davvero conveniente. Contattatemi per avere ulteriori informazioni.